È un'atmosfera surreale quella che si respira in via Ponte a Lisiera di Bolzano-Vicentino. Quattro villette, una vicina all'altra, il fiocco rosa sul cancello, quello che sventola dal balcone della finestra di casa. Il paese sta vivendo un dramma, una piccola comunità dove poco dopo le 20 di domenica il tam-tam di qualcosa di grave sta accadendo a Lisiera, si era già scatenato, racconta il sindaco Daniele Galvan. Non conosceva questa famiglia, ma la morte della piccola Alice e il dramma della sua mamma e del suo papà sono una tragedia per tutti. La coppia è residente dal 2009 a Bolzano-Vicentino, lei viene da Vicenza e lui da San Martino di Rupari, però è una coppia che non ha mai creato nessun problema e i vicini la descrivono come una coppia molto umite, una coppia affabile. Come sindaco contatterò il papà, porterò ovviamente purtroppo le condorianze e la vicinanza dell'amministrazione comunale e di tutti i cittadini. La villetta è sotto sequestro, i carabinieri della compagnia di Tiene hanno delineato il quadro, hanno già sentito il papà e sono in attesa del via libera per poter sentire la mamma. Una tragedia familiare, una di quelle che non vorremmo mai sentire nei telegiornali. La dinamica è tristemente nota, la donna ha scarventato a terra la bambina e nonostante tutti i tentativi dei medici di reanimarla non c'è stato niente da fare. È ricoverata nel reparto di psichiatria sotto il controllo dei carabinieri che la stanno piantonando in attesa di essere dimessa ed essere trasferita verosimilmente in una struttura dove possa scontare la detenzione. Non ci sono dubbi sulla dinamica di quanto è accaduto? Al momento non ci sono ulteriori spiegazioni o moventi, il quadro è sufficientemente chiaro. Per la donna l'accusa è di omicidio volontario.